Senectus Ipsa Morbus Est Senectus Ipsa Morbus Est è un'opera che si rifà a Terenzio Afro, 160 a.C. Quando la vita era più intensamente vissuta e la malattia veniva ripudiata diversamente da oggi. Si godeva della morte quale parte naturale della vita stessa e non si perseverava nella longevità. Da notare anche il tricolore metafisico patriottico.